non sono persone che stanno bene, quelle che ci seguono però va bene così è il motivo per cui andiamo d'accordo con loro cioè neanche noi stiamo molto bene e quindi dopo un anno qui a Cogito Studios è stato un anno, com'è stato quest'anno Roberto, com'è stato quest'anno dammi tre aggettivi per quest'anno dai è stato terrificante entusiasmante e ambivalente e quindi anche ridondante è stato un anno pazzesco, cos'è che hai imparato tu da quest'anno da quello che abbiamo vissuto, cos'è che ti porti dietro di costruttivo non so se è costruttivo io non so se si può dire qui su Twitch non so se è il posto giusto io non lo so, tutto questo tutto il tragico che è successo tutta la tensione sociale mi ha dato una prospettiva diversa sulla morte io mi sono riconciliato con la morte cioè questa frenesia anche del salvarsi la vita mi ha fatto cambiare l'atteggiamento che ho sulla morte cioè comunque noi moriremo tutti memento mori tutti moriremo tutti moriremo moriranno Novax moriranno Murioni moriranno persone sane tutti e non si può vivere per salvarsi la vita questa è una bella questa è una bella cosa siccome moriremo se tu muovi per salvarti la vita la tua vita è un fallimento certo certo bisogna vivere per dare la vita bisogna vivere se vogliamo dirla in un modo lirico per morire in battaglia solo che devi trovare la tua battaglia non di morire nella battaglia di qualcun altro e devi cercartela quella battaglia certo certo questo mi trovo molto molto d'accordo molto d'accordo mi viene in mente quella citazione di Seneca quando diceva cioè alla fine lui dice filosofare è imparare a morire che significa esattamente cioè dobbiamo imparare a morire non è una cosa che non è che si muore e basta chi muore e basta probabilmente non ha vissuto invece devi prepararti a quel momento sapendo che succederà che è un ottimo modo per far partire una live peraltro sì sì ma con me partono così le live ma perché credi che io voglio fare una rubrica settimanale con te cioè se per questo perché andiamo d'accordo su questo però è vero è vero è vero quindi abbiamo imparato a morire credo anche Daily Cogito nell'ultimo anno infatti l'argomento della morte è saltato fuori tanto tanto spesso sarà che io in mezzo a questa pandemia ho perso anche mio padre quindi ho avuto varie occasioni per pensare a questa cosa ed effettivamente è proprio così non puoi perdere tempo cioè io ho sentito proprio questa cosa qua non abbiamo più tempo per perdere tempo cioè non è più tempo per fare le cose degli altri per rispondere ai ritmi degli altri per vivere la vita di qualcun altro devi imparare ad arrivare pronto a quella roba lì perché se no cazzo te fa c'è uno spreco di tempo incredibile sì 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 beh però invece dall'altra parte mi rendo conto che questa è una cosa che si fa fatica a raccontare cioè adesso noi lo diciamo in una live probabilmente già il 10% del pubblico ha detto oh mio dio no per piacere via ok non persi non persi mai insomma chi se ne frega però questo è un aspetto importante perché perché mi rendo conto che invece da un punto di vista sociale siamo andati in un'altra direzione sempre di più cerchiamo di nascondere quell'aspetto lì sempre di più cerchiamo di esorcizzarlo e sai qual è secondo me provo a darti una chiave di lettura su questo perché ci sto anche scrivendo su questo tema ed è una roba su cui sto tornando molto spesso a me sembra che la morte sia in fin dei conti la nostra incertezza suprema ok cioè nel senso il fatto di sapere di dover morire ma non sapere quando non sapere come in che occasione è proprio ciò che incarna l'incertezza la nostra insicurezza il fatto che ci sentiamo fragili siamo fragili perché qualsiasi cosa faremo potrebbe finire adesso fra due minuti fra due mesi non lo sai ok questo ti rende incerto e questa incertezza noi cerchiamo di esorcizzarla in ogni modo penso soltanto facciamo l'esempio del covid perché per mesi e mesi e mesi ancora adesso sentiamo in televisione in radio anche sul web persone che hanno delle certezze incrollabili su cose di cui invece neanche gli scienziati hanno perché dare certezze è il nostro modo per esorcizzare quella cosa lì la morte cioè dire io ho la risposta io ti faccio percepire di avere capito è ciò che ci permette di rimandare perché se hai capito allora vuol dire che non siamo veramente in un ignoto non siamo veramente non stiamo brancolando nel buio c'è la speranza di capire e poi invece invece no invece no il rapporto con l'ignoto è ineludibile l'ignoto esiste certo solo che società più arretrate peggiori della nostra sotto molti punti di vista avevano dei modi per gestire l'ignoto farci i conti farci i conti sì allora c'era l'oracolo allora c'era il sacerdote allora c'era il sacrificio animale noi abbiamo perso in questa società giustamente secolarizzato io non riempiango non vogliamo non vogliamo gli oracoli non vogliamo gli oracoli non vogliamo gli oracoli non vogliamo l'ashfameda il sacrificio del cavallo vedico un rituale che dura un anno magari è interessante studiarlo però solo che non potresti trasmetterlo su Twitch peraltro sì perché dura troppo è per quello è per quello anche gli animalisti dice che non sono contenti no no non sono contenti dice tradizione è tradizione sì anche il paglio di siene tradizione è pure una barbarie è anche la corrida noi abbiamo perso tutta una serie di sistemi di tramite sì però l'ignoto forse non so forse verrà un nuovo modo per affrontare queste cose forse verranno nuovi linguaggi un nuovo codice però adesso siamo con questa cosa che incombe che è poi l'essenza della vita della realtà sai di cosa mi sono messo conto negli ultimi giorni perché negli ultimi giorni mi sono ripreso un autore che io ho adorato in fase di studio universitario e poi ho un po' perso che è Vico Gian Battista Vico La Scienza Nuova è un testo straordinario non so se ti è mai capitato però lui è di fatto una delle incarnazioni dell'illuminismo italiano napoletano anzi visto che ieri ci ho discusso con Michele Boldrin effettivamente lui era del regno di Napoli però scriveva in italiano ovviamente e lui insieme a Beccaria è parte integrante di questo movimento illuminista e non ti aspetti da un esponente di un illuminismo di quel genere di un razionalismo di un certo tipo il fatto che lui dedica un intero capitolo al valore della poesia ma il valore della poesia non inteso in senso come intrattenimento no la poesia ha quel ruolo lì che dicevamo adesso cioè la poesia è quel linguaggio che ti prepara all'ignoto La Scienza Nuova è questo testo in cui forse avrai qualche reminiscenza se ti è capitato di studiarlo lui parla dello sviluppo della storia umana ok lui parla parla del fatto che la storia umana ha alcuni passaggi determinati quindi si parte dalla barbarie dalle bestie quindi dall'istinto dalla violenza si passa per l'età degli eroi che è appunto l'età del mito e tutto quanto e poi si arriva all'età secolarizzata quindi quella della ragione ora semplificando enormemente poi l'opera è molto complessa in mezzo a questo sviluppo lui però mantiene l'idea che la poesia sia un elemento fondante dell'età della razionalità che sia un modo per conoscere la realtà perché? perché razionalità non significa negare l'esistenza dell'ignoto significa dare il giusto ruolo all'ignoto cioè razionalità per noi significa in qualche modo trattare il mondo come se fosse una stanza chiusa certo la stanza è buia stiamo cercando di rischierarla però in fin dei conti è una realtà con delle pareti chiusa che ti permette di dire potenzialmente potremmo conoscere tutto non è l'ignoto quello quello è quello che ancora non conosci e invece secondo alcuni secondo alcuni pensatori non è mica una stanza la realtà è un bosco e quindi non ci sono dei confini e la tua lanternina certo rischiara delle parti ma tu potresti sbagliarti potresti prendere di sentieri che ti porteranno alla trappola e soprattutto lì fuori potrebbe esserci l'impensabile lo sconfinato l'ignoto è questo e secondo Vico la poesia è ciò che ci prepara a questo aspetto che è un aspetto razionale e io mi rendo conto che invece noi cerchiamo di difenderci da questo l'ignoto non vogliamo saperne nulla l'ignoto è meglio lasciarlo da parte ma l'ignoto ma stai scherzando ma c'è l'ignoto no c'è nel senso ascolto Calimberti in tv che mi dice che insomma le cose stanno così così belle quadrate e ciao e così moriamo male poi arriviamo al momento in cui incontriamo l'ignoto è un macello sì sì perché fra l'altro come abbiamo già detto forse nella seconda stagione del podcast che abbiamo fatto parole preziose ecco c'è Thanatos Eros e Thanatos sì sì Thanatos esiste certo certo ti dicono che gli dèi dell'antica Grecia o dell'antica Roma erano superstizioni no no sono cose che esistono non erigiamo più templi non sì facciamo più sacrifici però Thanatos ti dicono è il dio della morte Thanatos non è il dio della morte Thanatos è la morte la morte è un dio cioè qualcosa che esisteva prima di noi qualcosa che esisterà dopo di noi qualcosa che ha un potere con cui noi non possiamo parlamentare certo certo e quindi sì ci dobbiamo fare i conti con l'ignoto con gli dèi o come come li vogliamo chiamare mi vengono in mente due cose sull'ignoto sull'essenza dell'ignoto e e e e della della razionalità siccome abbiamo citato Gödel e Scherbach in cui si parla appunto di Gödel qual è la cosa sconcertante del teorema di Gödel anzi dei teoremi di Gödel in realtà sono più di uno Gödel dimostra che in un sistema sufficientemente complesso matematicamente ci sono delle proposizioni indecidibili cioè proposizioni di cui tu non puoi dimostrare che siano vere o false magari sono vere ma non è possibile dimostrarlo che sono vere certo e questo lui l'ha dimostrato con la massima razionalità cioè con un teorema matematico sì 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 cioè è questa la cosa come dire destabilizzante no cioè la dimostrazione matematica della ciò che tracima la ragione d'altra parte anche l'idea di matematica secondo me è fraintesa ok vai vai perché la matematica si usa la parola matematica spesso popolarmente nella vulgata per indicare la certezza due più due fa quattro la matematica non è un'opinione ma invece a me piace dire io sono logico come lo è la matematica disciplina nella quale esistono i numeri irrazionali certo e i numeri immaginari sai che c'è una cosa in matematica che si numeri immaginari e poi mi viene in mente una cosa sulla ragione per noi la ragione è la capacità di calcolo no è la capacità di costruire pensieri logici è entrato un audio fuori era l'arrotino sembrava l'arrotino ma andiamo a picchiarlo adesso scusami per l'interruzione anche questo è l'ignoto che entra è il fornire dell'ignoto non l'hai accolto come tale l'ignoto che è arrivato infatti ci ha sconvolto ha rotto il tuo discorso e ci ha gettato nell'abisso nell'oscurità prego grazie anche per il gas ragazzi grazie per il gas quando quando Dante parla della ragione sì sì una cosa dopo l'altra scusate c'è anche il campanello adesso che vabbè chi è è l'arrotino è l'ignoto è l'ignoto che suona il campanello sotto le vestite dell'arrotino ovviamente perché una volta l'arrotino passava per strada e dì tu che dovevi rincorrerlo adesso ti passa come un venditore che vedo porca a porta porca miseria incredibile è veramente angosciante questa cosa comunque prego prego dicevo Dante quando parla della ragione non intende la capacità di calcolo la capacità di articolare pensieri logicamente corretti intende la facoltà che gli uomini hanno in comune con gli angeli certo quindi anche la capacità di vedere la bellezza la capacità di riconoscere quello che è giusto la capacità di amare di tendere di desiderare cose che non sono materiali che l'animale può desiderare le cose che sono materiali ma ci vuole la ragione certo certo la cosa che gli animali non hanno per desiderare la giustizia la bellezza ok sì 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 sono cose sono cose concrete cioè in fin dei conti la cosa veramente angosciante che io credo abbia alimentato il modo con cui gli antichi consideravano le divinità e quindi il rapporto con il divino è che l'ignoto non sta lì fuori nel mondo cioè nel senso voglio dire pensa soltanto a i cicli lunari ok cicli lunari uno può non conoscerli allora attraverso la scienza quindi attraverso le misurazioni attraverso l'astronomia a un certo punto tu puoi colmare la tua ignoranza e puoi dire ok adesso so come funzionano i cicli lunari sono dei problemi determinati limitati ok sono dei problemi che hanno dei limiti sono molto complicati lanciare un satellite in orbita è un problema limitato è complicato ci vogliono conoscenze però una volta che hai le misurazioni i criteri riesci a farlo che cos'è che è ignoto invece ignoto è la tua relazione con la morte la tua relazione con la coscienza la tua relazione con quelle cose che un tempo venivano concretizzate in divinità e perché gli antichi concretizzavano questi elementi in divinità perché in qualche modo era il desiderio di trasformare questi problemi illimitati dentro di noi privi di confini su cui si può spendere milioni di parole senza risolvere mai una virgola e metterli lì fuori cioè la divinizzazione della morte è un tentativo di dire ok la morte è questa cosa qua e vedendola cerco di limitarla ti racconto una storia vai qui nel paesino dove io sono io sono vissuto a Piovene Rocchetto che è un paesino a 10 chilometri da qua è un paesino di 7-8 mila abitanti e su Piovene c'è un monte e si chiama Monte Summano Monte Summano fino a pochi secoli fa e ti parlo del 1500 era il luogo di pellegrinaggio di tutti gli europei devoti al dio Plutone il dio della morte il Monte Summano infatti è un vulcano spento antichissimamente era un vulcano e al suo interno c'è un crepaccio che veniva chiamato la bocca dell'inferno e quella era considerata dalle popolazioni d'Europa venivano da ogni parte d'Europa a fare il pellegrinaggio c'erano templi c'erano sacerdoti e via dicendo pagani perché la nostra è stata una zona pagana veramente fino al 1500 600 e lì venivano in pellegrinaggio perché quella era l'entrata all'inferno e lì c'era il dio Plutone era la sua casa questo è il motivo per cui per esempio dalle nostre parti fino agli anni 70-80 c'erano ancora messe nere ci sono stati sacrifici umani fino a pochissimi decenni fa l'ultimo caso di sacrificio umano nell'altro piano di Asiago risale agli anni 60-70 tanto per dirne una ok e qui è pieno di zone dove un tempo c'era proprio questo valore sacro legato ancora al paganesimo e poi è arrivata l'evangelizzazione però molto tardi quindi San Girolamo peraltro la storia dicono che San Girolamo che infatti qui ci sono anche i fratti Girolimini e tutto quanto San Girolamo è diventato il patrono di queste nostre zone perché la storia vuole che lui si sia infiltrato fra gli adepti del dio Plutone e acquisendo la fiducia abbia cominciato a evangelizzare alcune persone di nascosto e poi ha distrutto i templi e cacciato tutti quanti il suo atto di evangelizzazione è ciò che poi ha portato queste nostre zone ad abbracciare un altro tipo di fede che però è molto giovane noi siamo la zona d'Italia che più tardi di tutte le altre ha in qualche modo incontrato l'evangelizzazione cristiana perché si è stati pagani fino a pochi secoli fa quindi questo era la bocca dell'inferno capito ma d'altra parte non è che a un certo punto arriva il cristianesimo e spazza via no perché pagano è una parola che deriva da pagus che vuol dire villaggio certo cioè mentre le grandi città magari hanno già state cristianizzate nei villaggi nelle zone più periferiche come dici tu sopravvivevano i culti poi renditi conto sai io allora uno dei progetti letterari che ho per il mio futuro è quello di scriverci un romanzo su questa roba qua cioè io voglio scrivere un romanzo su questo territorio su questo passato che è incredibile e studiando un po' io sono entrato in contatto con dei documenti in cui viene raccontata l'angoscia l'angoscia dei pagani di fronte ai cristiani i pagani mangiavano i cristiani e cioè vedevano i cristiani come i mangiatori di Dio cioè quando il cristiano faceva l'eucarestia il pagano voleva darsela gambe perché il paganesimo era quell'approccio in cui l'individuo umano è sottomesso alla natura cioè al massimo è Dio che ti si mangia ok è la natura che ti distrugge e tu devi fare sacrificio e tutto quanto per sperare che la natura non ti si mangi pensa quando arrivano i cristiani i quali fanno l'eucarestia e cos'è che mangiano? mangiano il corpo del loro Dio e bevono il sangue del loro Dio c'è un bellissimo film di Refn che è Valhalla Rising in cui viene raccontato l'hai visto? c'è quella scena straordinaria in cui c'è questo vichingo vecchio e saggio rinchiuso nella prigione che dice no non andare dai mangia Dio i mangia Dio sono il demonio e questa roba qua io la vi di tempo fa e rimase lì nella mia memoria e poi ho scoperto che era veramente così i pagani erano terrorizzati dai cristiani perché questi si mangiavano Dio cioè vedevano i cristiani come dei demoni i veri uccisori di Dio e quindi era questa noi non ci rendiamo conto della rivoluzione concettuale che c'è stata intorno a questa a questo evento quando i mangiatori degli dèi hanno cominciato a spargersi nel mondo tu immagina per un pagano sottomesso alla natura che significato deve aver avuto questo aspetto capito veramente il dominio dell'uomo sulla natura è nato lì cioè il cristianesimo è stato il momento in cui il rapporto fra uomo e Dio si è totalmente rovesciato infatti la narrazione del Dio che si sacrifica che sacrifica suo figlio ma comunque Dio che si sacrifica per gli uomini è un inedito nella storia dell'umanità perché anche nelle storie molto spesso dice figure come quelle di Gesù Cristo sono venute tante volte però non è mai stato il Dio che si sacrifica era comunque altre cose e lì invece questo rapporto viene completamente rovesciato tu dici anche il Dio egizio che viene smembrato eccetera però viene distrutto dai nemici e comunque c'è un rigenerarsi nel senso è tutto non c'è non c'è l'uomo che si nutre del suo Dio e attraverso questo che è un puro sacrificio con Dio che muore risorge peraltro attraverso questo puro sacrificio riesce a rinnovare l'alleanza con gli dèi cioè questa roba qua è un inedito almeno per quello che conosco della storia delle religioni non mi sembra che ci siano delle cose raccontate così ti direi che però la hierofagia cioè il fatto di mangiare il corpo del Dio c'era anche nei riti bacchici in cui l'agnello viene raccontato anche nelle baccanti di Euripide un animale viene smembrato e mangiato la carne cruda viene mangiata però però lì in Euripide non so se è una come dire riformulazione letteraria oppure se se è veramente un dato storico questo non te lo so dire fatto sta che i pagani erano terrorizzati da questo sono stati terrorizzati per loro aveva un significato inaccettabile e poi da quel momento lì se tu guardi insomma il rapporto fra uomo e natura è cambiato cioè è diventato l'uomo ad essere colui che domina la natura è quasi questo simbolo ma tu dici che quindi anche lo sviluppo per esempio della scienza cui l'uomo osserva la natura per individuarne le leggi ma non ha una relazione che non è paritaria ma la natura è l'oggetto e lui è il soggetto è stata potenziata da questo poi voglio dire la tecne esiste da molto prima del cristianesimo ok voglio dire il mito primordiale di prometeo esiste da prima del cristianesimo quindi in realtà la natura è sempre stato uno strumento dell'uomo ma il fatto è che a un certo punto c'è stato un passaggio che è quello che hai appunto detto cioè la scienza il sapere scientifico ora lungi da me il fatto di dire che il sapere scientifico abbia le sue radici nel cristianesimo però in realtà l'atteggiamento culturale che porta l'uomo a scavalcare quel rapporto di sudditanza nei confronti della natura che c'era prima era molto più forte basta leggere insomma i filosofi ma lo stesso Seneca ne parla chiaramente Epiteto i filosofi romani ne parlano di questo a un certo punto cambia dal mio punto di vista senza alcun dubbio l'apporto del cristianesimo io quest'estate mi sono riletto le lettere di San Paolo le lettere di San Paolo parlano di questo continuamente ok è continuo il fatto che la natura viene vista in un modo diverso rispetto ai filosofi precedenti la natura è diventata qualcosa che serve all'uomo ok questo cambiamento c'è nel cristianesimo ora sarebbe avvenuta questa cosa anche senza il cristianesimo è probabile e non sto dicendo che sia la causa però sicuramente vedendo le reazioni delle popolazioni pagane a questa avanzata a questo incredibile trionfo del cristianesimo dei mangia Dio quella roba lì sicuramente ha avuto un impatto in questo aspetto c'è una frase di Mircea Eliade sì grandissimo autore peraltro grande studioso delle religioni che dice che il cristianesimo ha desacralizzato il mondo assolutamente sì cioè io sposo appieno questo aspetto cioè lui peraltro c'è anche il bellissimo libro sul mito dell'eterno ritorno lui fa un libro sull'eterno ritorno che è bellissimo e lui spiega proprio come hai presente che non so i greci pensavano al tempo come a un circolo a un ciclo e poi a un certo punto arriva il cristianesimo e apre il tempo ok il tempo diventa una linea una linea su cui gli eventi si susseguono in cui c'è un punto di creazione un punto di giudizione universale che non si ricongiungono alla fine quindi non c'è più il ciclo e lui in questa in questa cosa qua ribadisce ribadisce questo aspetto questo è stato fondamentale per far sì che l'uomo cominciasse a vedere il mondo come uno strumento quindi tu hai un tempo che essendo lineare ti dà uno scopo che è al di fuori del tempo nel tempo ciclico tu sei suddito dell'eterno ritorno lo dice anche Nietzsche cioè tu non puoi che ripetere lo stesso ciclo della tua esistenza infinite volte come l'hai già ripetuto infinite volte nel tempo del cristianesimo tu fai quello che fai con lo scopo di ciò che sta al di fuori del tempo la vita eterna e quindi questi sono aspetti che desacralizzano e cambiano la relazione fra uomo e natura uomo e divinità ti direi che questo processo comincia visto che questa live su Twitch è particolarmente frivola già con l'ebraismo quando studiavo ebraico ci faceva notare l'insegnante che durante la creazione le stelle la luna il sole vengono nominate con una parola che in ebraico indica degli strumenti di illuminazione delle luminarie mentre in molte religioni la luna il sole le stelle sono divinità ok quindi da divinità da esseri viventi diventano oggetti interessantissimo questo interessantissimo se leggi i salmi noi stessi siamo come strumenti cioè c'è questo salmo aspetta non vorrei sbagliare mi sembra che sia il 138 in cui l'autore tenta di liberarsi di Dio no? di sfuggirgli ma Dio è onnipresente quindi lo riguadagna sempre lo riagguanta sempre e dice perché sei tu che hai plasmato i miei organi che mi hai intessuto nelle viscere di mia madre mio Dio cioè è come se l'utero femminile fosse un telaio certo fosse uno strumento certo ed è Dio l'unico soggetto certo non so se mi spiego sì sì quindi non è la natura che è di per sé vivente e genera e procrea c'è la volontà e l'azione esatto è come se tutte le cose fossero oggetti inanimati e Dio li usa come strumenti è molto interessante questo aspetto perché di nuovo sono continui ribaltamenti e in fin dei conti la storia dell'umanità la puoi tranquillamente delineare come la storia dell'interazione fra questi aspetti cioè ogni cultura ha avuto un certo tipo di relazione con la divinità e con la natura in alcune culture io credo che nell'ebraismo tu sei molto più esperto di me sull'ebraismo però ciò che ricordo leggendo i testi sacri anche studiandolo un po' all'università credo che nell'ebraismo ci fosse un'immagine triplice cioè da un lato avevi Dio poi c'era la natura e poi c'era l'uomo ok e c'è un'interazione fra questi tre elementi cosa che in parte il cristianesimo eredita però scambiando nell'ebraismo c'è ancora una relazione di sudditanza fra l'uomo e la natura cioè la natura ha ancora un aspetto molto forte dominante sull'uomo e credo che questo sia dipendente dal fatto che la storia dell'ebraismo è stata comunque una storia di nomadismo una storia di spostamenti quindi una storia in cui in qualche modo l'uomo è sempre soggetto ai cambiamenti della natura mentre il cristianesimo è permeato dalla sedentarietà è permeato dal fatto che tu sei in un ambiente che è già di per sé tecnologico almeno questo è quello che ho sempre percepito in questa differenza non so se ti ritrovi in questa ricostruzione ci dovrei pensare perché in realtà quello che succede è che Dio come dire sovverte la natura questa è anche la critica se non sbaglio che fa al concetto di miracolo ebraico spinoza allora c'è il mare ma Dio spacca le acque il verbo è bacca come quando si spacca la legna non c'è non ci sono piante nel deserto ma Dio fa arrivare la manna si si e appunto la natura senza l'intervento divino domina l'uomo cioè non è l'uomo direttamente che può modificare e cambiare cioè quello che intendevo in quel senso lì si tu hai una gerarchia si 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 in quel senso lì hai Dio la natura e l'uomo però la natura è inerte certo certo si si questo è vero questo è vero non c'è la non ci sono divinità questo è vero questo è vero ciò che accade però con il cristianesimo è che mentre nell'ebraismo di nuovo è una semplificazione ok nel senso potremmo comunque però idealmente tu hai Dio la natura inerte che è comunque superare l'uomo cioè l'uomo nei confronti della natura non può nulla se non c'è Dio che gli dà una mano Mosè non poteva mica nuotare ok cioè nel senso o Dio arriva e apre le acque usando Mosè altrimenti ciao nel cristianesimo questa cosa viene a meno perché il cristiano si trova ad avere un rapporto strumentale con la natura è come se nel mondo cristiano l'uomo avesse la dico così poi l'autorizzazione preventiva di Dio di manipolare la natura cioè l'uomo può dominare la natura ok ed è un po' Dio che gli dà questo progetto gli dà la possibilità di farlo questo simbolicamente rappresenta l'eucarestia cioè è Dio che dice all'uomo fai ok cioè il motivo per cui dal cristianesimo viene fuori il calvinismo ok il calvinismo e quindi tutta l'idea del fatto che la tua fortuna in terra è la volontà di Dio cioè se tu hai fortuna se tu riesci ad avere successo nel lavoro riesci ad avere successo nell'uso dei tuoi strumenti è un segnale del fatto che Dio ti ha eletto ok questa cosa qua era impensabile nelle altre religioni nel cristianesimo invece si sviluppa certo tardi perché comunque dopo il quattrocento però ci arriva questa idea qua ok ok ma aspetta ridimi la differenza che vedi nel rapporto con la natura tra il cristianesimo ed ebraismo cioè nell'ebraismo per dominare la natura l'uomo ha bisogno dell'intervento di Dio per forza il miracolo arriva ok c'è quella pagina appunto commentata da Spinoza Dio ferma il sole per permettere all'esercito Israele se non arriva l'intervento di Dio l'uomo non può far nulla contro la natura non può manipolare la natura deve aspettare che arrivi la volontà di Dio nel cristianesimo questa cosa non avviene più nel cristianesimo tu uomo hai un dominio sulla natura cioè tu puoi attraverso la tua potenza la potenza della tecne intervenire sulla natura anche senza il miracolo divino ed è ciò che poi porta appunto ad avere filosofie interne nel cristianesimo come gli anglicani come il calvinismo e quindi questa idea in cui addirittura il fatto che tu abbia successo nel dominio della natura cioè il lavoro è segno della provvidenza è segno del fatto che Dio ti ha predestinato questa cosa qua è di una potenza e di nuovo una rivoluzione all'interno del pensiero umano non c'è che io conosca non ci sono religioni in cui ti viene detto che il successo nel tuo lavoro è legato al fatto che Dio ti ha predestinato cioè il successo è perché sei l'eletto di Dio che è un'idea peraltro molto criticata però c'è ci sono intere culture tutta quanta la parte nord europea dalla Germania ma anche paesi bassi si è sviluppata intorno a questa idea e io credo che questo dipenda dal fatto che appunto simbolicamente l'eucaristia ha quel significato lì cioè il significato è sei tu uomo che ti prendi la natura e il fatto che tu ti prendi la natura è in qualche modo autorizzato da Dio sì questa è una cosa che io bene o male ho sentito molto forte nello sviluppo poi ovviamente di nuovo si potrebbero spendere mille parole anche di critica a questa visione però credo che la reazione dei pagani all'esistenza dei cristiani significhi proprio quella cosa lì perché addirittura invece per esempio nell'Iliade quando quando Dio Mede infura nel campo di battaglia mostra un coraggio straordinario uccide le nemici a piedi a piedi ribalta i carri in realtà c'è Atena con lui che lo incide lo obbliga a fare così certo cioè come nella visione pagana se ogni volta che un uomo fa qualcosa di eccezionale l'avesse fatto in realtà come dire posseduto da un Dio assolutamente spinto pungolato obbligato da un Dio esatto la musa il bisogno della musa che il cristianesimo non ha più non ha più ecco vedi non c'è più il bisogno della musa è quella la desacralizzazione di cui parla Eliad cioè nel senso il fatto che tu non hai più bisogno di invocare Dio non hai più bisogno di chiedere alla divinità di non distruggerti nell'azione che lui vuole fare attraverso di te che era il motivo per cui Omero invocava la musa cioè perché invochi la musa invochi la musa mica per vendere più libri invochi la musa per paura che il Dio ti sconvolga ma noi abbiamo più paura di essere sconvolti dal Dio ed ecco di nuovo la certezza vedi si collega a quello che dicevo prima il cristianesimo ci ha abituati a una certezza nei confronti del mondo che da un certo punto di vista ci aiuta cioè tu sei più sicuro delle cose che fai perché vedi la natura come strumento perché vedi il Dio come opzione ok vedi il Dio come eventualmente una cosa in cui credere la domenica mattina quando vai a messa ma non è qualcosa che ti può sconvolgere quindi ti ho una serie di certezze che ti aiutano ad agire meglio nei confronti del mondo ma quando poi le tue certezze si scontrano con l'ignoto ecco che ti becchi un colpo di remo devastante ed è quello che è successo negli ultimi vent'anni se ci pensi con le cose che hanno contraddetto le nostre certezze io credo che ho questa idea che la storia degli ultimi degli ultimi vent'anni adesso la dico esagerata la storia degli ultimi vent'anni in occidente sia la storia del fallimento di questa idea che è nata nel cristianesimo che è la desacralizzazione il fatto di non aver più bisogno dell'oracolo della musa fammi degli esempi pensa soltanto pensa alla pandemia ok allora io stesso ti faccio un esempio dicembre 2019 faccio uscire un video che è un video di critica Galimberti già citato ok in questo video a un certo punto dico cioè nel senso noi abbiamo sconfitto le pandemie due mesi dopo bam pandemia ok ancora oggi quel video riceve messaggi di gente che mi fa ma minchia che gufate mi fa un sacco ridere questa roba qua e lì cos'è che ho detto ah cazzo avevo una certezza che non era una certezza da dove arriva questa certezza questa certezza arriva dall'idea che io uomo parte di una cultura umana occidentale che vede la natura come belva domata ovvero problema limitato e conchiuso a un certo punto si becca un colpo di remo dall'ignoto che ti dice povero piccolo hai pensato di non dover invocare la musa ecco cosa ti succede ma ma e non solo tu hai fatto questa previsione disgraziata ma non so se hai letto Homo Deus di Harari certo certo l'ho letto l'inizio è così no racconta delle pandemie di peste eccetera poi dice ma poi tutto questo ormai acqua passata perché le pandemie ormai sono sotto controllo mentre noi muoria molto di più per le malattie del benessere il colesterolo e poi c'è il cancro che ci deriva da un'alimentazione troppo ricca di carne bam è vero è questo è questo che intendo è questo che intendo cioè la nostra storia degli ultimi secoli è una storia di espulsione del sacro e quindi la poesia diventa un puro atto di di evasione ok l'oracolo diventa una fantasia il mito è una roba che sta nei libri ammuffiti ed è tutto desacralizzato e ripeto per fortuna nel senso io sono un laico quindi nessuno vuol dire torniamo al sacro romano impero no è quello è il paradosso anche io dico non voglio reintrodurre gli oracoli ma questo tipo di sicumera intellettuale che ci ha sorretti per gli ultimi 200 anni sicuramente quindi rivoluzione industriale ma sicuramente anche un po' prima illuminismo e tutto quanto a un certo punto si è beccato una serie di evidenze l'ignoto ritorna 11 settembre per gli Stati Uniti bam Stati Uniti mai attaccati arriva il terrorismo il terrorismo di che natura religiosa quindi teocratica addirittura una religione che arriva e ti dice no la legge deve sottostare il Dio cosa che per noi è inaccettabile perché no la legge positiva è quella cosa creata dagli uomini per evitare che le ideologie si spandano e arriva boom e buttano giù due palazzi e poi arriva la crisi economica che è l'altro segno dell'economia quindi l'economia questo sapere complessissimo in cui ci sono tantissime persone che conoscono e sanno veri sapienti del nostro tempo pieno di certezze crolla tutto e scopriamo che in realtà quel crollo è avvenuto per cose che si sapevano e che tutti quanti hanno taciuto e quindi tu negli ultimi vent'anni la cosa che io in qualche modo ho visto è che l'ignoto è ineluttabile non puoi espellere l'ignoto dall'esistenza degli uomini perché l'ignoto tu puoi rimandarlo lo rimandi lo metti sotto al tappeto sotto al divano però a un certo punto poi comincia a venire fuori da ogni parete e poi accade qualcosa poi a questo voglio anche aggiungere un aspetto cioè ricordiamoci la pandemia è vero è arrivata grazie alle nostre certezze l'abbiamo limitata come mai saremo riusciti 50 anni fa ok quindi non è quello il punto il punto però è che ci siamo accorti come dire che la storia non sia conclusa sì ma anche adesso nel tenere sotto controllo più o meno la pandemia però vedi che tu hai la percezione che neanche l'onnipotente scienza abbia il totale controllo prima a un certo punto quando è stato trovato il vaccino sembrava che la partita fosse vinta poi no in realtà non è così perché ci sono le varianti e poi allora c'è un secondo no la seconda iniezione anzi no la terza e poi in alcuni paesi i casi crescono altri diminuiscono quindi anche gli esperti non hanno sotto controllo la cosa e quando mi hai detto come è stato questo anno è stato un anno anche di questo terrificante esaltante terrificante anche perché io ho sentito fortissimo questo aspetto l'irrompere dell'ignoto e ho pensato ma non abbiamo più gli oracoli e non li possiamo richiamare no certo cosa fai ce li siamo mangiati ce li siamo mangiati adesso se i virologi non riescono a sconfiggere la pandemia non è che chiami un bramano hai capito è bello però il bramano non sarebbe male hai capito in televisione sarebbero anche pronti ad invitarne uno probabilmente sì però sì 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 io ho sentito la vien da dire uso un'espressione semplicistica per farti capire la nostalgia dei sacerdoti la nostalgia dei veggenti capito? di avere una figura e adesso non ce l'abbiamo non so se ci sarà un'altra figura più evoluta nel domani un tramite diverso sicuramente ci sarà il sacerdote dell'algoritmo sicuramente non lo so non lo so non ho capito cosa produrrà la nostra sofferenza la nostra civiltà la nostra intelligenza cosa accadrà ma ti posso dire una cosa forse adesso forse questo scatenerà una shitstorm forse noi qui siamo siamo professionisti di shitstorm fra le varie cose che ho pensato in questo anno così difficile e tormentato che mi ha ispirato anche pensieri tortuosi ho pensato persino che il grande successo mediatico di una figura come Greta Thunberg fosse dovuta a questo cioè che l'umanità una parte dell'umanità vede in lei una figura del passato cioè l'oracolo l'oracolo è uno che sa le cose che porta una sapienza che è superiore che non viene da lui la Cassandra esatto e che tipicamente ha una menomazione perché tradizionalmente l'oracolo è menomato solitamente è cieco Tiresia è cieco allora c'è una bambina in realtà è un adolescente però ha un aspetto infantile cioè sembra più dimostra meno Greta degli anni che ha certo e ha una menomazione non è cieca ha una menomazione più moderna ha la sindrome di Asperger e viene a dire e a parlare con i potenti della terra a lanciare messaggi millenaristi apocalittici come fosse un navi come fosse un profeta biblico certo certo capito annunciatore di sventura io credo che il potere attrattivo che quella figura ha dipenda almeno in parte da questa suggestione e infatti e infatti se tu vai a guardare i sapienti a cui ci aggrappiamo hanno tutti questo questa questa caratteristica riescono a darti delle certezze infatti è il motivo per cui in televisione tu senti dei filosofi che danno continui slogan ok cioè slogan formule veloci formule che sono come il bla 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 di Greta cioè sono quelle formule immediate che ti fanno percepire che quel problema che è devastante che ha a che fare con l'ignotto in realtà ha dei confini perché lo slogan funziona perché la politica funziona perché riesce a catturare la nostra attenzione perché tu hai a che fare con problemi complessi cioè pensa soltanto al problema della povertà ok la povertà è uno dei problemi più irrisolvibili della storia umana la diseguaglianza ok è una roba roba che che sfugge da tutte le parti qualunque cosa tu faccia per migliorarla sfugge a tutte le parti non c'è non c'è un modo per risolverla questa cosa ci sono delle cose che puoi fare per migliorare la solidarietà il sussidio l'economia le tasse via dicendo per ridistribuire ma non è che la risolvi e quando arriva il Movimento 5 Stelle gli dice abbiamo sconfitto la povertà e tutti impazziscono e dicono ah visto sconfitta la povertà noi ci aggrappiamo agli slogan della politica ma anche di nuovo nei sapienti perché vogliamo qualcuno che ci dica l'ignoto non esiste i problemi sono limitati e anche se non li abbiamo risolti potremmo risolverli questa roba ci fa fare un sospiro di sollievo lo sai continuo a rispondere alla tua prima domanda è un podcast di una domanda sola quando mi hai detto cosa ti è capitato come hai sentito cosa hai provato come hai vissuto io mi porto sempre dietro un taccuino in cui annoto delle cose ho scritto questo pensiero che il nostro tempo è un tempo dove non esistono più le tragedie esistono solo le disgrazie porca miseria le disgrazie cos'è? le disgrazie è una cosa che non doveva capitare era meglio che non capitasse ok cos'è la tragedia? la tragedia non è semplicemente una disgrazia la tragedia è l'irrompere dell'ignoto nella realtà e nelle tragedie letteralmente tragedie greche non si sa chi sia la colpa cioè ognuno ha le sue ragioni ma nessuno ha tutta la ragione ognuno ha le sue colpe ma nessuno ha da solo tutta la colpa non c'è una soluzione certo non voglio essere ripetitivo delle cose che ho già detto però e come mai Giocasta si è impiccata eh perché eh no suo figlio ha giaciuto con lei ha ucciso suo padre allora è colpa di Edipo eh no ma Edipo era stato messo nel bosco perché morisse allora è colpa dei genitori eh no ma i genitori hanno ricevuto la profezia non c'è più questo tipo di incertezza questo affacciarsi sullo sconosciuto sull'inconoscibile non c'è più l'idea che due parti opposte possano entrambe avere ragione non la ragione con la R maiuscola ma le proprie ragioni c'è una polarizzazione fortissima per cui noi abbiamo ragione e gli altri non capiscono niente assolutamente non esiste più la tragedia esistono solo le disgrazie ci sono ci sono ci sono racconti di tragedia è il motivo per cui uno dei miei autori preferiti è Philip Roth pastorale americana a mio parere è una delle ultime una tragedia contemporanea non so se conosci la trama se l'hai letto il libro però fondamentalmente in questo in questo romanzo Philip Roth è un romanzo di fine anni 90 veramente un grandissimo capolavoro che ti consiglio peraltro c'è un bellissimo anche audiolibro letto da Massimo Popolizio che ha questa voce così così aspra e calda che è incredibile è un libro che io ho amato moltissimo Popolizio ascoltandolo me l'ha fatto amare ancora di più che a volte è una cosa che capita con le voci grandi però è meglio comunque leggerlo prima il libro fondamentalmente viene raccontata la storia di questo Simur Levov che è lo svedese ok questo personaggio che in adolescenza fino al college ben visto da tutti buona famiglia straordinario talento poteva fare quello che voleva eredita all'azienda del padre che è un'azienda di pelletteria si costruisce la famiglia del sogno americano e c'è questa figlia ok sua figlia ragazza problematica e non si capisce perché balbuziente rancorosa già da piccola a tantissimi aspetti poi ci sono non voglio spoilerare nulla però è una storia molto torbida come quella di Fili Proto che è molto torbida che ti lascia un sacco di domande inespresse che non hai il coraggio di esprimere il rapporto fra il padre e la figlia è un casino ok e accade qualcosa nessuno spoiler è diciamo così proprio l'elemento centrale del libro quando è adolescente lei con questo atto di ribellione nei confronti della bella famiglia della bella America che si scontra contro il padre politicamente perché abbraccia gli ideali degli hippie contro la guerra in Afghanistan e via dicendo scusami in Vietnam e via dicendo a un certo punto fa saltare per aria un ufficio postale ok uccidendo una persona ed è una storia di tragedia proprio per quell'aspetto che dicevi di Giocasta e tipo perché stai lì dici ok ma dov'è che è cominciato tutto dov'è che ha avuto inizio la domanda che Roth si fa è dov'è che ha avuto inizio questo questa serie di eventi che porta poi a una roba inaccettabile la morte di un innocente il disastro di una famiglia nessuno ha colpa lei non ha colpa il padre non ha colpa la madre il nonno e c'è questo questo tentativo di erosione ok in cui l'unica risposta è ci è ignoto non puoi sapere dove ha avuto inizio questa serie di avvenimenti e quello lì è l'ignoto l'ignoto che irrompe e ti fa capire che le certezze di cui ti sei ammantato in realtà erano soltanto modi per mettere l'ignoto sotto il tappeto sotto il divano dentro il caminetto bruciarlo dimenticare poi rientra l'ha vinto il premio Nobel Roth non l'ha vinto il premio Nobel no che non è tempo di tragedie non so lo stanno pure cancellando nel senso rotolo lo cancellano perché nessuno vuole scrivere la biografia non vogliono pubblicarla quindi per quello dico è un tempo dove esistono le disgrazie non le tragedie è piaciuto adesso ho capito il tuo sorrisetto mentre facevi perché ti preparavi a dire è la vita hai capito Roberto Mercadini qua cazzo parla di certezze poi c'ha la certezza di poter piazzare questa battuta bello mi sei piaciuto mi sei piaciuto peraltro Ari ci ha fatto il primo ride dell'esistenza del suo canale grazie Ari grazie Ari bello perché prima raccontavamo Ari come si sentisse la nostra voce nella live di là quindi siamo maschi bianchi etero che disturbano e soverchiano il canale della povera donzella quindi ci perdonerai comunque sì è interessantissima questa cosa qua e noi l'abbiamo imparato mi rendo conto che Pastoral Americana è un libro che parla proprio di quello che ci è successo e stiamo lì a chiederci da dove è che hai cominciato simbolicamente tra l'altro lei scusa se non sbaglio il libro non l'ho letto me ne hanno parlato lei a un certo punto abbraccia la religione jainista i jainisti ecco che è una religione in cui non si vuole fare male a nessun essere tanto che si porta sulla bocca un velo per scongiurare il pericolo di inghiottire insetti minuscoli e quindi ucciderli esatto esatto quindi lei da questo l'ideale di non violenza estremo poi uccide una persona beh in realtà prima uccide la persona e poi finisce e poi c'è la sua risposta la sua reazione è quella ok ed è interessantissimo e anche questo mi ricorda molto quello che stiamo vivendo perché se ritorniamo al discorso dell'ignoto e della tragedia noi siamo circondati in questo momento storico da aspetti culturali che cercano di convincerci che i disagi che viviamo sono prodotti dalla cultura e non dal mondo cioè pensa soltanto al concetto di cancel culture ok cioè l'idea che se tu sei una persona che ha un'esposizione mediatica e in passato magari 15 anni fa quando uno ci pensava hai detto scritto una cosa che oggi risulta inaccettabile tu devi essere cancellato cioè ed è quello che sta succedendo a Philip Roth deve essere revisionata la storia che si raccontava di te ok al punto da dimenticarti che cos'è questo questa è l'idea che ciò che ci porta il disagio non è qualcosa che è intrinseco al mondo non è qualcosa che è inevitabile che è ineluttabile ma è qualcosa che ha a che fare con i comportamenti delle persone e tu i comportamenti delle persone puoi sempre smussarli cambiarli eliminarli c'è qualcuno che ha una colpa c'è qualcuno che ha una colpa e basta punire quello che ha la colpa esattamente non è che ognuno ha le sue colpe non è che ognuno ha le sue ragioni ma nessuno ha tutta la ragione c'è qualcuno che è il cattivo e il cattivo va eliminato va eliminato perché in questo modo il mondo è più vivibile è quello di cui ci stiamo convincendo e questo questo è problematico perché poi anche la letteratura perde la sua ti dico di più questo è la continuazione del desacralizzazione di cui parla Mircea Eliad cioè è un atto di ulteriore espulsione del sacro questa idea perché di rimozione di rimozione del sacro perché effettivamente se tu vuoi un mondo a immagine dei tuoi desideri della tua sensibilità tu devi eliminare quelle parti del mondo che ti preesistono e il sacro è ciò che ti preesiste cioè se c'è una definizione di sacro è tutto ciò che ti preesiste che ti preesiste da lungo tempo peraltro il sacro viene definito come etimologicamente no? quello che è conservato in un recinto quello che è separato sì no? ma mi sembra che in realtà la sua essenza sia il fatto di stare fuori dal recinto ah sì cioè dal recinto delle nostre certezze delle nostre abitudini delle nostre sicurezze sì sì delle nostre conoscenze sì è quello che sta là fuori e che ogni tanto cozza contro le pareti della nostra capanna squarcia dei varchi assolutamente sì e viene a molestarci certo è il sacro è l'elemento di nuovo è la natura di cui tu ti sei convinto che sia strumentale ai tuoi desideri che invece poi ogni tanto ti tira una smanganellata in testa e ti dice oh guarda che non puoi mica fare con me tutto quello che ti pare ed è un elemento interessante perché è l'elemento della tragedia quello lì eh sì e io ho molto io devo dire che fra le cose che ho imparato quest'anno perché mi sono accorto che anch'io prima di quello che è successo avevo un sacco di certezze ok quella che ho denominato prima insomma che ho raccontato prima ma poi tante altre certezze che sono state messe in discussione sconquassate da quello che è successo e da tante altre cose e quindi mi sono accorto di questo che ho più paura oggi dopo questo atto di maturazione ho più paura della persona che rifiuta l'idea di sacro per come l'abbiamo intesa sì che non quell'ignoto che il sacro porta con sé cioè la persona che rifiuta il sacro diventa un elemento di pericolo diventa un elemento di più maggior pericolo scusa le baccanti di Euripide arriva il sacro arriva Dioniso arriva il dio straniero che sconvolge l'ordine della società che fa bere le donne sì che le porta in giro sul monte Citerone a compiere le orge bar diritti orgiastici sì 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 e c'è Penteo il re della città che vuole riportare l'ordine certo finisce malissimo eh finisce discretamente discretamente male però lui è se ci pensi ciò che si oppone al sacro certo certo eh l'ordine politico l'ordine politico si oppone necessariamente si oppone al sacro perché tu provi a immaginare quale ordine politico potrebbe effettivamente abbracciare questa idea cioè manco le chiese sono state così cioè cosa è stata la chiesa la chiesa è stata un tentativo di limitare gli effetti del sacro qualsiasi chiesa in realtà un'istituzione in quanto tale cerca di amministrare cosa è il rito se non il tentativo di chiudere qualcosa di illimitato cioè nel senso cerca di limitare gli effetti è come se la chiesa fosse un laboratorio in cui entri in contatto con un un aspetto del sacro che è filtrato ok la chiesa è questo lo sai cosa io ho scritto quando ero giovane mi interessavo molto al sacro alle religioni alle diverse tradizioni spirituali e non è che volessi scrivere un libro ma insomma ho preso degli appunti sì e erano come degli aforismi una delle cose che ho scritto è questa qui che nel corso del tempo le religioni hanno subito una trasformazione chimica nei confronti del sacro da conduttori a isolanti interessante questo sì è vero è vero è così è così è così e di nuovo si torna alla differenza fra i i riti la fede pagana e la fede poi quella dei monoteismi cioè in fin dei conti le chiese monoteistiche sono sempre state il tentativo di creare comunità creare quindi collettività che attraverso cerimonie riti e comportamenti isolassero la sacralità la chiesa la chiesa cristiana ok è stata l'istituzione che infatti ha diciamo così attraverso i suoi comportamenti contraddetto dall'inizio alla fine quelli che erano gli insegnamenti che non so il messaggio di gesù cristo voleva tramandare ok quindi fra la simonia e il nepotismo e i papi che facevano figli ovunque e la corruzione è evidente che la chiesa non è mai stato un modo per veicolare un messaggio autenticamente sacro ok ha usato il sacro per propagare però quello che era un controllo politico molto forte anche storicamente anche storicamente è così e mentre se andiamo a guardare insomma il paganese il paganese è sempre stato fatto invece di cose infatti perché nei pagani ci sono i sacrifici umani ok cos'è il sacrificio umano se non la resa incondizionata di una comunità al fatto che non hai il controllo ok nessuno vuole parlare bene i sacrifici umani quindi non si no è come il discorso per gli oracoli cioè nessuno sta dicendo bisognerebbe tornare ai sacrifici umani no no cioè nel senso ci mancherebbe però il punto il punto è che il sacrificio umano è il fatto che l'umano si arrende al divino cioè se io devo togliere la vita a qualcuno per sperare nella benevolenza della natura dei numi degli dei significa che io mi arrendo cioè sono sono arreso mi arrendo alla tua potenza e quindi ecco il sacrificio il cristianesimo non è mica sacrifici no 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 l'unico è l'unico è il sacrificio come dire rappresentato nell'eucaristia esatto che è il sacrificio del dio si è il sacrificio del dio e non è il sacrificio dei fedeli o di un oggetto dei fedeli come no come la colomba l'agnello il bue ma non lo so è complicato perché bisognerebbe conoscere poi il paganesimo non per come viene raccontato viene raccontato e come ci sono arrivati i suoi residui quando era già dominante il cristianesimo no perché io credo che prima del cristianesimo il paganesimo avesse anche le sue istituzioni le sue gerarchie allora tempio di Apollo cioè era insomma sì sì questo sicuramente probabilmente certe dinamiche poi si erano prodotte anche lì una delle cose che scrivevo sempre in quegli appunti è che in fondo le istituzioni sacre istituzioni sacre è uno simoro assolutamente sì hai capito e lì è il paradosso è per quello che a un certo punto il gioco si rovescia che l'elemento passa da conduttore a isolante cioè se è un istituzione è qualcosa che intrinsecamente consustanzialmente è fatta per mantenere un ordine ma se è sacro è il disordine che irrompe ciò che non può essere sistemato in un sistema chiuso in uno schema come fai a fare le istituzioni sacre sì 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 è autocontradditorio sì certo certo è così è così e quindi lì secondo me ci sono tanti aspetti cioè quando cerchiamo di fare ordine a quello che ci è successo questi sono i pensieri che mi vengono in mente perché perché mi rendo conto che quello che è accaduto è sacro cioè la pandemia è sacra in quel senso lì che abbiamo detto è sacra è il motivo per cui pensa soltanto quando c'erano le pestilenze a chi ci si affidava con le pestilenze un tempo ci si affidava appunto agli oracoli ai veggenti ai folli ok infatti l'edipo re comincia con la pandemia ah sì esattamente non pandemia con una epidemia 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 perché la pandemia è tutto il mondo di peste esattamente è lì tutta la ricerca della verità è in funzione di questo fermare l'epidemia assolutamente ti viene da domandarti ma chissà adesso ricapitare l'edipo re no speriamo di no non c'è più un tiresia da chiamare è vero è vero non c'è più un ermafrodito cieco da chiamare non c'è più non c'è più è incredibile questo è incredibile perché ecco sai qual è l'aspetto che mi lascia ancora più basito di fronte a tutti questi ragionamenti è il fatto che cioè cos'è che possiamo trarre di costruttivo di positivo perché la parte positiva del sacro è quella che quando ti demolisce le certezze di cui ti sei ammantato facendoti più male che bene quindi irrigidendoti di fronte a un mondo invece che è continuo di venire ti mette a disposizione la possibilità di dire ok adesso cerco di rimodularmi ok cerco di rifarmi ricostruirmi per essere più disponibile ad accettare quell'elasticità che il mondo di continuo mi propone e invece siamo ancora credo in quella fase poi ovviamente con dovute differenze siamo ancora in una fase di irrigidimento siamo ancora in una fase in cui com'è che potrei dirla non abbiamo ancora perso qualcosa di sufficientemente determinante sufficientemente prezioso da rimodulare veramente quello che siamo e quindi il mio timore è quello il mio timore è che siamo all'interno di una tragedia siamo all'interno di una tragedia che ha a che fare con l'ignoto ma il rischio è che dobbiamo ancora vedere veramente ora non sto voglio fare il contrario della gufata di anni fa questa live si presta leggerissimamente a essere fraintesa eh sì però però insomma non è un augurio anche perché non vorrei augurarmi che insomma il peggio debba ancora arrivare però in realtà quella parte delle tragedie che dovrebbe darci il carburante per non l'abbiamo ancora vissuta la stiamo ancora espellendo noi stiamo ancora rifiutando questa idea siamo ancora in uno stato di conservazione totale forse da un punto di vista personale possiamo dire ok sì infatti per me è stato così per te come mi racconti è stato così però da un punto di vista sociale la nostra istituzione si è ancora più irrigidita sì sì siamo ancora in un stallo a livello personale magari abbiamo fatto un salto uno scato a livello sociale cioè globalmente nel complesso siamo in una fase di stallo ancora in cui non c'è stato ancora più chiudendo stiamo dando più potere agli uomini forti stiamo dando più potere alle istituzioni stiamo demandando di più e questo qua insomma stiamo polarizzando stiamo polarizzando quindi conflitti esatto ci stiamo ancora più sobbarcando delle certezze che poi sono fasulle e tutti questi aspetti mi fanno dire porca miseria cioè dobbiamo sperare veramente che questa cosa passi senza gravi danni perché se per caso ha ancora delle carte da giocarsi ci troverà ancora più rigidi ci troverà ancora più come dire ancora più indisposti ad essere ad adattarci a certe situazioni questa cosa qua mi fa riflettere mi fa riflettere non poco anche Roberto è basito è molto interessante vedere cosa succederà nei prossimi vent'anni eh sì 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 viviamo come dice Gigi che viviamo in tempi interessanti questo non c'è dubbio che sono tempi interessanti però sono tempi in cui è difficile sai a me vengono in mente quelle parole di Nietzsche quando diceva sai Dio è morto ok Dio è morto significa abbiamo espulso il sacro letteralmente l'abbiamo buttato fuori dalla finestra lui lo vedrà con timore questo aspetto cioè la cosa che tu di cui non ti rendi conto è che l'idea che Dio sia morto è una festa è una cazzata è una cazzata incredibile sì 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 Nietzsche afferma che prima di tornare a poter essere realizzati prima di poter avere un'umanità che abbia fatto un salto che sia progredita dopo la morte di Dio dovranno passarne lui dice di cose di cose tragiche infatti se uno guarda bene poi il novecento è stato foriero di eventi tragici che leggendo Nietzsche uno potrebbe dire ah sì forse forse ci ha visto giusto e però mi rendo conto che siamo ancora lì siamo ancora un po' fermi a quei concetti lì lo sai fra le cose che mi hanno un po' distabilizzato quest'estate è morto Roberto Calasso sì sì io non l'ho mai conosciuto di persona quindi non ero affezionato come personalmente però è una cosa che un po' mi ha inquietato perché lui in fondo era nel nostro tempo un tramite con quella conoscenza con quella cultura del sacro millenaria certo che ora si sta perdendo è sempre più perduta e dopo la sua morte è letteralmente sprofondata ancora di più nell'obbrio cioè abbiamo ancora almeno c'era uno certo che sapeva cos'era la Shvameda almeno c'era uno che aveva una conoscenza aveva fatto uno studio una riflessione su cosa cos'è il sacro cosa sono i sacrifici e c'eravamo qui con noi nel nostro tempo a poter interpretare a poter dire non c'è più c'è tutto quel bagaglio enorme di conoscenze è sparito è sparito con lui certo e sai io credo credo che un po' io negli ultimi mesi anzi nell'ultimo anno mi sono riavvicinato a molte letture che per colpa di quelle certezze avevo un po' snobbato negli ultimi anni ok due autori principalmente ti cito uno è Eraclito e l'altro è Sant'Agostino ok cosa vuoi sono autori di cui in passato riconoscevo la centralità e la grande importanza però leggendoli a 22 anni a 23 anni io con la sicumera del post adolescente nicciano che pensava che Dio è morto fosse una festa ok dicevo sì vabbè Eraclito figo figo però eh Sant'Agostino è Sant'Agostino libro lirico poetico però insomma li ho riletti negli ultimi mesi e sono stati uno sconquasso ah sì cioè sono stati uno sconquasso perché infatti insomma chi sta seguendo questa stagione di Delicogito sa perfettamente che questi primi due mesi di trasmissioni sono stati pregni di Eraclito e ho fatto anche la monografia sulle confessioni di Agostino proprio la settimana scorsa e mi sono accorto che ciò che abbiamo vissuto è come se avesse aperto una breccia e mi avesse fatto avesse creato le condizioni affinché leggendo i frammenti di Eraclito io possa sentirli su di me cioè quando c'è Eraclito che dice quella cosa lì la trama nascosta è più forte di quella manifesta ok questa frase dieci anni fa per me significava eh sì baci perugina figo ok ci sta adesso quando sento quella frase lì dico cazzo è vero cioè è vero che ciò che sta dietro l'evento che ho vissuto ciò che sta oltre quello che mi si para di fronte allo sguardo riesce a penetrare nella mia vita in un modo che le cose manifeste non riescono a non riescono ad arrivare fin lì oppure potrei farti altre decine di esempi dei frammenti di Eraclito anche lì ci ho fatto la monografica quindi insomma chi vuole la recuperi però ci sono delle parole di Eraclito in cui mi sono detto cazzo è vero è vero e io negli ultimi dieci anni mi sono perso delle cose perché non avevo fatto delle esperienze che hanno a che fare con l'ignoto hanno a che fare col tragico e sono collegate a quel fatto che nel 2019 ho detto abbiamo sconfitto le pandemie ok sono collegate sono quella forma mentis in cui mi è stato detto da tutta la cultura che mi circondava noi abbiamo limitato l'ignoto e questa cosa ti fa sentire confortevole ed è quando cerchi le certezze gli slogan e poi si è rotto tutto e quindi adesso io leggere le confessioni di Agostino quando Agostino parla del fatto che è la realtà contenere Dio Dio contenere la realtà quel passo straordinario incredibile oggi per me è un significato completamente diverso rispetto ad anni fa e questa cosa qua mi ha mi ha mi ha confuso ecco che cosa è successo queste parole mi hanno confuso cioè sono sono più confuso adesso rispetto a due anni fa ed è un bene qualcuno dirà ma come sei confuso come fa ad essere un bene è meglio capire è meglio vedere è meglio e invece no e invece no quella confusione lì è una confusione da cui poi emergeranno elementi nuovi per interpretare la realtà e via dicendo ecco questa era la la poesia di Vico cioè nel senso io lì proprio in queste cose qua ho vissuto quello che Vico diceva della poesia come se prima il tempo si fosse contratto per cui noi avevamo uno sguardo limitato sulla realtà come dire positivista e tutta una letteratura passata per noi fosse semplicemente passata non più attuale non più capace di parlarci sai cosa dice Calasso in questo libro l'ardore lui parla della società vedica dice la società più remota più remota da noi nessuna altra società ci dà un senso di urto così neanche i cinesi del taoismo antica Grecia i babilonesi no allora lui racconta che c'è questo mito vedico per cui tutti gli animali un tempo stavano eretti ok e poi tutti gli animali tranne l'uomo si rattrappiscono e si mettono a quattro zampe Darwin ci ha spiegato che non è così che è l'opposto ma che umanità sarebbe un'umanità futura in cui si fosse intellettualmente in grado di abbracciare tutti i due racconti quello darwiniano vero in senso letterale scientifico e il mito vedico vero in modo simbolico simbolico allegorico certo metà senso e poi conclude improbabile umanità è improbabilissima hai capito però forse sarebbe lo sguardo più saggio certo hai capito significa avere più strumenti eh sì tu conosci la scelta ma non snobbi i veda c'è una verità che è di tipo diverso da quello scientifico che è prodotta con un sistema differente allora un po' ma sai perché sai perché ci siamo aggrappati e io lo dico da darwinista convinto cioè nel senso quindi non è io credo che questa cosa accada perché e di nuovo è Nietzsche che ce lo afferma questo che ce lo insegna perché quando abbiamo espulso il sacro quando abbiamo ucciso Dio tu vivi nel timore di rivederne gli occhi cioè il primo effetto della morte di aver ucciso Dio è che tu sei terrorizzato di aprire la finestra e vederne l'occhio e dire cazzo adesso mi fa un culo così ed è veramente quello che succede quindi tu non puoi sopportare i veda così come non puoi sopportare Eraclito fino a un certo punto finché non fai certe esperienze perché hai paura di aprire la finestra e avendo buttato fuori Dio dalla porta ti ritorno dalla finestra questo è un timore terribile cazzato e quindi è incazzatissimo e tu non sei più abituato hai pensato di avermi ammazzato vieni qua ti fa un mazzo tanto e questo aspetto è interessante perché significa che noi abbiamo è difficile ricostruire questa cosa però se volessimo schematizzarla l'ignoto esiste abbiamo sviluppato una serie di saperi tecnici scientifici anche religiosi perché di nuovo le istituzioni religiose sono questo per prima limitarlo e quindi raccontarci il fatto che non era veramente ignoto era solo molto grande però in realtà abbiamo chiuso i confini riti cerimonie saperi e dicendo e in questo modo abbiamo desacralizzato la società quindi abbiamo espulso il sacro dalla società e questo ci ha permesso di creare un benessere incredibile il saperi scientifico col suo dominio della società ci ha permesso di avere la medicina l'esplorazione spaziale e tutto quanto e però a un certo punto mentre questo percorso avveniva l'ignoto continuava a darci dei piccoli segnali piccoli poi insomma voglio dire l'olocausto ok tipo piccolo segnale guerre mondiali e tutto quello che è avvenuto e adesso ultimamente queste cose che ci hanno colpito incredibilmente molto più da vicino perché sono riuscite a smantellare delle certezze molto più intime e poi a un certo punto però queste piccole intromissioni dell'ignoto in questo discorso che sembrava quella che Fukuyama definisce la fine della storia questo ottimista messaggio del tipo la storia non cambierà mai più e viviamo di un benessere infinito c'è un equilibrio a un certo punto l'ignoto che abbiamo nascosto un po' dappertutto si è riversato ed è esattamente quello che sta succedendo e quindi Dio è ritornato dentro dal cammino dalla finestra da sotto il tappeto il sacro emerge da ogni aspetto e noi siamo ancora lì a dirci no no però è tutta un'illusione è tutta un'illusione perché adesso abbiamo tutte le risoluzioni e invece il mondo è quella roba lì il mondo è il palcoscenico della tragedia e non so se sapremo farci conti non so se sappiamo farci conti non credo che ci stiamo facendo i conti come si deve perché di nuovo la risposta è quella di sì sì lasciamo fare a lui lasciamo fare a quelli e non è esattamente il modo migliore per quindi non so ci vorrà una sorta di rivoluzione di evoluzione intellettuale ma come? è una bella domanda ne parlavo con Francesco Costa sai quando a me è capitato negli ultimi tempi di riflettere molto visto che insomma avendo anche ripreso in mano i libri di Shakespeare quello che viene raccontato nel Giulio Cesare ok che esattamente all'inizio del Giulio Cesare succede questo succede che Giulio Cesare esce dalla stanza lì c'è la sua compagna c'è il sacerdote e i sacerdoti gli dicono caro Giulio c'è un problema gli oracoli ci hanno detto che non devi uscire di casa oggi ok e Giulio Cesare dice ah poveri stolti siete scemi mi vuoi la vostra superstizione non ci credo oggi vado al senato e Giulio Cesare non esce proprio benissimo diciamo così ed è incredibile perché di nuovo è questo il tema c'è l'istituzione che non può credere all'oracolo perché abbiamo espulso il sacro perché non può sopportare quell'intromissione perché l'istituzione deve dirsi e raccontarsi la storia che è tutto sotto il suo controllo arriva la superstizione cioè in questo caso i sacerdoti che dicono guarda che abbiamo ucciso non mi ricordo era un mi sembra un cerbiatto e il cerbiatto non aveva il cuore ok e questo è un presagio di sventura o non aveva il sangue non aveva il cuore adesso non mi ricordo ma mi sembra il cuore è un presagio di sventura e quindi non devi andare è palesemente una superstizione e però quella superstizione diceva il vero Giulio Cesare va in senato viene buccherellato dai suoi amici e nemici e si scatena la guerra civile ok ed è talmente talmente aderente questa questa storia a quello che abbiamo vissuto che io quando lo leggo dico porca miseria e lì lo vedi cioè lì vedi quello che dicevi tu noi abbiamo bisogno della scienza abbiamo bisogno di cose di fatti empirici per capire come agire nei confronti del mondo ma abbiamo bisogno anche di queste storie perché queste storie ci danno gli strumenti utili non a risolvere l'ignoto ma ad avere qualche punto di qualche coordinata alla fine dei conti è questo cioè il mito la poesia ci dà delle coordinate che ci impediscono magari di farci veramente troppo male di cadere da troppo in alto quando poi le cose ci vengono tolte da sotto i piedi e anche lì cosa succede al funerale di Cesare chi ha ragione quando parla brutto i popolani lo acclamano come se lui avesse ragione e tu che leggi o ascolti a teatro pensi che abbia ragione brutto e poi parla Antonio e i popolani inclamano lui e tu che leggi ascolti dice no no ha ragione Antonio non è brutto brutto c'ha ragione però c'ha ragione anche lui ma che cazzo c'ha ragione eh nessuno ha la ragione tutti hanno la loro prospettiva limitata fallibile incerta per quanto poi raccontata con certezza è parziale e la verità sta al di fuori dello sguardo degli uomini sì è questo poi è questo la verità è qualcosa a cui non abbiamo accesso perché la verità sta al di fuori delle diverse prospettive che noi riusciamo delle rappresentazioni che riusciamo a costruire ed è questo che sai c'è una parola in questi mesi che per me che è continuato a tornare che è la prudenza ok ne parla tantissimo Marco Aurelio Marco Aurelio parla continuamente della prudenza e io ho capito in questo momento della mia vita che cos'è la prudenza ma proprio che cos'è effettivamente la prudenza è il fatto di considerare la totalità delle tue conoscenze come uno sguardo sufficientemente ampio da aver capito questa cosa non è prudente la prudenza la prudenza è capire che per quante conoscenze quante prospettive quante nozioni quanta sapienza avrai collezionato intorno a un problema soprattutto i problemi che hanno a che fare con il nostro animo la prudenza ti dice brancoli comunque nel buio e quindi gli strumenti che ho a disposizione per evitare di farmi troppo male sono comunque armi spuntatissime nei confronti di quello che potrebbe accadere e quindi sii prudente perché poi la prudenza è ammettere l'esistenza dell'ignoto esattamente e poi pensa anche come vanno in un modo diverso dal programma le cose nel Giulio Cesare di Shakespeare è brutto che dice prima parlo io e poi parla Antonio perché così la gente dirà qualunque cosa lui abbia detto anche in favore di Cesare e lo ha detto per la magnanimità di brutto certo perché in quel momento brutto è più potente di Antonio assolutamente quindi è lui che sceglie così ma in questo modo si dà la zappa sui piedi e sfugge la situazione e sfugge la situazione avrebbe fatto meglio parlare per secondo ma comunque sarebbe andato e comunque parlare per secondo ci sarebbe stato qualcosa che poteva sfuggire perché sfugge sfugge la totalità no no scusa finisci finisci no vai vai no senza fare paragoni per carità è per questo che io ho voluto raccontare così la bomba atomica certo cioè come questo parlo degli dei no? gli dei che ridono degli scienziati cioè io volevo dare il senso di questo del fatto che c'è una trama nascosta che è più forte di quella in vista e che le menti migliori del mondo non riescono neanche loro a governare gli eventi e non sono neanche loro consapevoli di quello che stanno facendo no? come se fossero marionette guidate dall'alto dalle mani di entità misteriose cioè è questa la tragedia certo certo sono d'accordo sono d'accordo e la tragedia si moltiplica quando tu dimentichi questo aspetto quando credi che open air sia quell'idea lì che ti è stata raccontata da qualcuno quando credi di aver capito quello che è stato la pandemia ok? quando ti convinci di qualcuno che ti dà gli slogan e le risposte prima hai citato Greta Thunberg nell'ambito dell'ambientalismo tu pensa credo che sia l'ambiente è uno di quei luoghi del discorso umano in cui veramente la smisuratezza è la misura delle cose perché è un problema incommensurabile io leggevo un paper qualche giorno fa in cui cercavano di spiegarti quanto è impossibile con gli strumenti che abbiamo forse con qualsiasi possibile strumento catalogare tutte le correnti all'interno di un determinato spazio sull'oceano indiano ok? cioè se tu prendi adesso non mi ricordo le proporzioni però prendi tipo un chilometro quadrato di oceano indiano ok? e ovviamente c'è l'oceano e ci sono le correnti marine poi ci sono le correnti aeree che sono in interazione ok? riuscire ad avere un modello che ricostruisca a una determinata altezza e profondità le correnti attualmente è impossibile ok? e tu renditi conto di cosa vuol dire poi avere un modello che invece riesce a prevedere i cambiamenti climatici è una roba è il dio della complessità ok? il cambiamento climatico è una roba incredibile ci sono alcuni che per esempio sulla corrente del golfo si stanno facendo dei modelli che sono tutti estremamente approssimativi sono dei modelli predittivi molto limitati ed è proprio il problema in cui dici cavolo so che esiste un problema so che funziona in un certo modo so quali sono le cose che dobbiamo fare ma non ho idea di cosa sia il problema in sé per sé non ce l'abbiamo questa cosa ci mancano gli strumenti e non solo tecnologici ma anche intellettuali è una cosa veramente complicata quella lì e quindi di cosa è che hai bisogno? dello slogan hai bisogno della certezza hai bisogno della frase che ti fa dimenticare anche solo per un momento l'inarrivabilità del problema e questa cosa qua è è la cifra della nostra civiltà noi siamo costruiti così siamo costruiti sulla base dell'espulsione del sacro la desacralizzazione di di Mircea è esattamente quello ed è la tragedia che si accumula alla tragedia è pazzesco ed ecco perché di nuovo Eraclito quando dice quella cosa lì ok non scendi mai due volte nello stesso film ma cos'è che vuol dire? vuol dire semplicemente che sei un essere in divenire sei in un mondo in divenire significa che qualunque immagine tu ti farai di qualsiasi problema sarà sempre parziale insufficiente sarai sempre insufficiente ok perché tu conosci il fiume in cui sei sceso ma se ridiscendi il fiume che per te è lo stesso in realtà non è lo stesso non è lo stesso non sei neanche tu lo stesso ma soprattutto e per me è quello il vero il vero concetto espresso da Eraclito le cose che scegli di sapere del fiume di te stesso sono pochissime rispetto a tutto quello che c'è alle correnti a tutto quello che compone quel momento tu stai ritagliando un piccolo una piccola fetta di realtà in una realtà che non toller essere divisa a fette perché la realtà è un divenire è un divenire in cui tu cerchi di raccontarti delle piccole identità c'è un filosofo contemporaneo morto qualche anno fa che si chiama Derek Parfit in Italia non è praticamente poco di tradotto e lui è un eracliteo contemporaneo perché lui scrive queste pagine prefigurando una società che è assolutamente impossibile da immaginare lui dice il problema della tragedia umana sta nel fraintendimento del linguaggio cioè noi abbiamo costruito una società in cui il linguaggio il modo che abbiamo di esprimerci ci convince di cose che in realtà non esistono per esempio l'idea di io di identità ok è molto insita nel linguaggio lui addirittura la fa risalire al conio del concetto di essere ok il problema dell'essere è un problema che ha a che fare con il mio sentire di essere che è mio sentire di essere questo fraintendimento ci porta ad essere angosciati perché allora la morte è la mia morte la perdita è la mia perdita e io in questa relazione con l'ignoto sarò sempre insufficiente appunto vivrò sempre con angoscia le tragedie allora lui dice prefigura questa è molto complesso il discorso però per dire per riassumere lui dice non sono io che affronto la morte perché non c'è nessun io è la morte che avviene in un certo momento in quello che è il corpo che si riferisce a ciò che intendo con io ok però io è una costruzione cosa che non esiste c'è un evento cioè il mondo è una serie di eventi non ci sono io che vivo l'amicizia che vivo l'amore non sono io che mi innamoro ma è l'innamoramento che avviene attraverso il mio corpo e quindi lui cerca di prefigurare questa questa filosofia che si priva del concetto di essere del concetto di identità che è interessantissima e lui è un filosofo interessantissimo però ovviamente è inimmaginabile una società in cui questi concetti non ci siano più per esempio come fai a immaginare il diritto senza la responsabilità senza è praticamente impossibile però questo è tanto per dire quanto sia complicato mettere ordine a questi concetti qua è un disastro è un disastro vero è un disastro peraltro nella terza stagione di Parole Preziosi abbiamo parlato anche del concetto di mito ci prendiamo due secondi per ricordare a chi ci ascolta in differita e in diretta che lunedì 15 novembre esce Parole Preziosi la terza stagione terza stagione terza stagione ci sono già le altre due stagioni sotto metto il link se volete andare ad ascoltarvi le prime due stagioni che insomma sono carine mi dicono mi dicono che siano carine ho sentito delle belle recensioni i due che le tengono sono persone con dei problemi abbastanza però sono simpati sono dei bonaccioni nel senso dai quindi terza stagione lunedì 15 non vediamo l'ora di sentire cosa ne pensate e porca miseria questa diretta è stata anche lì dimmi prendiamo una parola e poi ne esaminiamo i diversi significati e vediamo che a volte le parole hanno significati diversi divergenti contraddittori certo contrasto che una parola può dire può voler dire qualcosa ma anche il suo opposto qualcosa che è sideralmente lontano che il significato della parola evolve fluisce pensa la parola eroe ok nel senso che poi raccontiamo nella terza stagione eroe molto spesso è qualcosa di desiderabile qualcosa di che ci fa crescere che ci ispira però poi in letteratura spesso gli eroi sono personaggi terrificanti sì certo non è il modello morale per forza gli eroi sì 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 e invece Inomero per esempio sì sì Inomero gli eroi sono di solito personaggi da acquistare il più possibile distanti ecco lì è tragico certo lì è tragico nel senso che quando tu leggi l'Iliade tu non devi parteggiare non è come a non so qual è un fumetto particolarmente semplice dove ci sono i buoni e i cattivi i buoni sono buoni i cattivi sono cattivi non è così tu non parteggi cioè lo scontro fra chi le Ettore non è lo scontro fra il buono e il cattivo e tu assisti a qualcosa di grandioso di epico di tragico patendo la violenza l'ingiustizia venendo scosso anche dalla forza cose di pathos che hanno gli avvenimenti e basta non stai parteggiando non c'è il tifo no certo certo sì non c'è la polarizzazione non c'è la polarizzazione non c'è uno che ha ragione uno che ha tolto cioè è quella dimensione tragica lì mi ha fatto venire in mente un fumetto che io amo molto che è un fumetto di epica contemporanea che è Watchmen in Watchmen ci sono questi supereroi Rorschach o Zimandias l'uomo gufa via dicendo oppure ovviamente il dottor Manhattan che è forse il più emblematico di Watchmen in cui ognuno di questi eroi mostra a seconda della prospettiva che tu adotti luce e ombre e e non poi cioè vabbè adesso è un fumetto di qualche decennio fa quindi non farò uno spoiler però o Zimandias che è l'uomo più intelligente del mondo un uomo ammirato e poi in fine di conti scopri che che ha nella mente un piano che è terribile e quindi ti fermi e dici ma allora lui è il malvagio e invece poi quando scopri il suo piano dici però ha le sue ragioni e quindi e chi è il malvagio allora il malvagio è l'immagine che noi vogliamo avere di lui cioè il malvagio lo produciamo noi quando desideriamo che i comportamenti che vediamo messi in atto siano contraddittori rispetto a quello che noi vogliamo essere è questo alla fine no e quindi e quindi sì è incredibile è incredibile quindi potremmo dire forse che cioè alla fine alla fine dei conti il mito la tragedia dovrebbe essere la cura nei confronti della polarizzazione ah beh sì ti educa ti educa a non limitarti a un atteggiamento di comodo di comodo di tifo sì sì a una divisione puerile certo 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 ah certo quindi leggere ho in mente altre mille cose porca miseria a cui vorrei riuscire a dare forma però sento soltanto ribollire questo magma in questo momento perché poi mi rendo conto che cioè sai quella è la cosa che penso penso che chi ascolterà questa chiacchierata domani si sentirà molto depresso ma in realtà io credo che quello che ha detto sia molto ottimista cioè lo definiresti ottimista questa cosa qua che abbiamo detto oggi ottimista forse forse esagerato no è vitalizzante come dire corroborante qualcosa no che ti apre forse è la mente che scardina una visione troppo ristretta è un casino ragazzi è un casino però sono contento di aver chiacchierato su questo Rob mi sento mi sento un po' più liberato mi sento un po' più a mio agio di fronte all'ignoto eh non ottimistica però liberatoria 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 sì liberatoria sì in questo periodo sto in realtà non rileggendo ma riascoltando l'audiolibro del conte di Monte Cristo quella non è una tragedia è un dramma il conte di Monte Cristo eppure mi rendo conto che in quel libro ci sono tantissimi elementi che possono dare ordine anche a quello che sentiamo come nostre insicurezze penso soltanto a Edmond Antesso che è un personaggio in cui nel corso della mia vita mi sono mi sono rivisto tante volte anzi ti dico potremmo fare potremmo fare un recital del conte di Monte Cristo nella galera io faccio Edmond Antesso tu fai la battefaria cioè nel senso io ho questa immagine qua tu hai il saggio che si è intessuto con mille tecniche i modi per scrivere questa opera straordinaria che personaggio straordinario la battefaria e e mi rendo conto che la vicenda di Dante è una vicenda in cui i concetti quali vendetta ma anche ingenuità trovano una forma ed è veramente cioè è un libro che quando lo leggi ti dà strumenti per capire aspetti della tua vita non è una roba di evasione non è proprio qualcosa che dice ok quando vivi questi aspetti quando senti di aver subito un sopruso quando senti l'ingiustizia sappi che non è semplicemente quello che senti è qualcosa di più di nuovo è la trama nascosta dietro quella manifesta la letteratura ti dà questo credo che sia fondamentale insomma cioè produrre conoscenza attraverso la letteratura non so non so magari abbiamo detto un sacco di cose disordinate la gente uscirà con grande confusione però io credo di averne un po' di meno quindi grazie Rob per aver chiacchierato è stato veramente veramente beh come sempre fantastico grazie a te se siete di schio o dintorni peraltro io ne approfitto per chi è in live perché abbiamo quasi mille persone in live quindi se siete di schio mille persone in live sì 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 abbiamo un po' di gente se siete di schio o dintorni erano così allettanti i temi così così accattivanti così catchy come direbbero oggi i geni del marketing dicevo non mi ricordo più cosa sì volevo dirvi che se siete in live siete di schio o dintorni questa chiacchierata continuerà questa sera al Faberbox dove presenteremo in un dialogo io e Roberto i libri di Roberto quindi storia perfetta dell'errore e bomba atomica e quindi siateci so che c'è ancora qualche posto sul mio sito rickdufer.com sezione eventi trovate anche il link dove prenotare prenotate mi raccomando e speriamo di vedervi numerosi per tutti quelli che sono stati indifferita mannaggia voi cioè nel senso mannaggia voi che cacchio potevate venire a trovarci a chiacchierare in live anche perché adesso chi è in live potrà fare qualche domanda e noi cercheremo di rispondere Rob grazie mille di nuovo per questa focosissima e magmatica chiacchierata che speriamo risolleverà un po' l'animo delle persone che dici aspetta no domanda prossimi spettacoli dov'è che li fai tu? cos'è che hai adesso? sono il 22 23 e 24 di novembre a Milano al circolo Arcibellezza a fare il mio monologo su Shakespeare che si chiama La più strana delle meraviglie che bello che bello che bello non l'ho ancora visto non l'ho ancora visto se vi capita andate a vedere perché quest'uomo sul palcoscenico è tutt'altro che tragico o meglio è tragico nel modo giusto nel senso che ti apre all'ignoto e ti apre e ti prepara ad affrontare la vita quindi sono anche a Firenze Firenze a fare il mio monologo sulla Bibbia ebraica ok fuoco nero su fuoco bianco il 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 19 può essere non ci metto la mano sul fuoco nero vuoi che ti convinca vuoi che ti convinca si roba sul mio sito sul sito di Roberto trovate tutto quanto metto i link sotto in descrizione ne approfitto anch'io per ricordare agli amici di Roma che il 28 novembre invece io sono a Roma per quanti giga pesa Dio nella mente di Philip Dick quindi insomma non mancate e direi veramente basta quindi basta con questo ignoto basta con la tragedia basta concludiamo questa diretta se siete in live però no perché rispondiamo a qualche domanda a tutti gli altri diffondete divulgate insomma fate conoscere dei licogito il lavoro di Roberto quello che facciamo andate ad ascoltarvi parole preziose mannaggia a voi e grazie per l'ascolto fate i bravi buona giornata buon weekend e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa ciao ciao Grazie a tutti